Il liceo classico biomedico e il liceo classico per le lingue sono i due nuovi e moderni indirizzi di studio che a partire dal prossimo anno scolastico sarà possibile scegliere al liceo classico Tommaso Fazzello di Sciacca. L'attivazione, deliberata dagli organi collegiali dell'istituto, vuole rispondere all'esigenza di approfondire alcune discipline scientifiche per una più ampia preparazione in campo medico-sanitario. L'indirizzo biomedico, sempre dal prossimo anno scolastico, sarà attivato anche presso il liceo scientifico di Menfi, che fa parte dell'istituto superiore Fazzello. Nasce perché ci siamo resi conto negli ultimi anni del bisogno, della necessità dei ragazzi di approfondire tematiche a carattere biosanitario, finalizzate al superamento dei test di ammissione alle facoltà di medicina o alle facoltà sanitarie in genere e per questo negli anni passati abbiamo sempre attivato con successo, devo dire, un progetto di preparazione indirizzato ai ragazzi delle quinte classi al superamento dei test. Il progetto ha avuto sempre molto successo, però la riflessione nasce spontanea, cioè non è consigliabile che i ragazzi possano, sin dal primo anno, cominciare ad approcciarsi a queste discipline, le discipline scientifiche in modo sistematico, in modo graduale, adatto alla loro età, alle conoscenze pregresse e continuare questi studi per un intero quinquennio e maturare dentro di sé quindi questa possibile scelta, questa volta con competenza e motivazione e allora accanto a quello che è l'impianto formativo del liceo classico, perché non cambia assolutamente e tutte le materie continueranno ad essere presenti con il loro monte ore, si aggiungeranno dei potenziamenti, delle ore di potenziamento a partire dal primo anno di matematica, di fisica e di scienze, portati avanti da insegnanti qualificati e non solo, perché la nostra collaborazione con gli ordini professionali e la collaborazione con esperti del territorio e con le università ci permetterà anche di fare delle lezioni attive su campo, degli stage, l'alternanza scuola lavoro, proprio finalizzate al lavoro diretto di questi ragazzi negli ambienti ospedalieri, negli ambienti sanitari in genere, proprio per capire da vicino come funziona questo tipo di mondo, tra virgolette, e che tipo di impegno professionale presuppone. Il corpo docente del liceo classico è pronto a questa nuova sfida, l'introduzione di moduli formativi specifici riguarderà anche le discipline come storia e filosofia e latino e greco. Introdurremo dei moduli sia per la filosofia, per la storia, ma anche per tutte le varie discipline che in qualche modo, come dire, verteranno sull'argomento lingue o per liceo, per le lingue, argomenti di carattere etico e bioetico per quanto riguarda il liceo biomedico. In particolar modo, per quanto riguarda le mie discipline, in storia sicuramente si farà attenzione a quella che è la storia della scienza, per quanto riguarda il liceo biomedico. E per quanto riguarda la filosofia avremo dei moduli relativi all'epistemologia, perché, come dire, la filosofia si presta a dare le fondamenta epistemologiche alla medicina e comunque alla scienza in generale. Le nostre discipline latino e greco chiaramente danno una completa formazione umanistica, quindi secondo me un buon medico non potrebbe mai prescindere da una formazione umanistica che, secondo me, soltanto lo studio del latino e del greco possono garantire. Poi, per esempio, penso al lessico, alla terminologia specifica del campo medico, che fa riferimento sicuramente al greco. Fin qui, dunque, l'indirizzo biomedico, ma il liceo classico dal prossimo anno offrirà anche la possibilità dello studio e dell'apprendimento di una seconda lingua straniera, oltre all'inglese. Sarà infatti attivato l'indirizzo liceo classico per le lingue. Avremo un altro indirizzo, lo chiamiamo liceo classico per le lingue, anche esso nasce dall'esigenza dei ragazzi, alla quale andiamo incontro con dei corsi finalizzati al conseguimento della certificazione B1, certificazione europea, di conoscere una seconda lingua straniera, l'inglese curriculare. La seconda lingua straniera potrebbe essere sia il francese o lo spagnolo, che verrà insegnata con due ore settimanali per l'intero quinquennio da una docente di madrelingua. Grazie a tutti.